dovrebbe essere lì ecco l'altra moneta ben ritrovati in un nuovo video con Big Tiger ragazzi come potete vedere oggi per la prima volta in spiaggia speriamo di trovare molto oro molte monete e di passare una bellissima giornata giusto? andiamo amici abbiamo subito un buon segnale ecco l'ha è venuta subito fuori i premi 50 centesimi si è sicuro abbastanza bene ottimo perfetto ragazzi andiamo avanti abbiamo un buon segnale ragazzi 66, 67 molto probabilmente si trattano di 2 euro 3 linee, 2 linee di profondità no, scaliamo anzi vediamo ragazzi certo eccolo qua questo è un buon segnale 1 euro vabbiamo trattato questo è un buon segnale andiamo adottato ok e questo è un buon segnale e questo è un buon segnale fuori, è stato tirato fuori, ecco voi, una bella moneta, un euro, questa è bella ossidata, non è messa proprio in ottime condizioni, neanche tanto male, però si riesce a leggere, si vede che è un euro, ormai ha preso un unico colore, esattamente, andiamo avanti, amici abbiamo un ottimo segnale di circa 75,3 livelli di profondità, cerchiamo di tirarlo subito fuori, ragazzi, bellissimo ragazzi, un tappo di bottiglia, però ho messo molto bene, potrebbe trattarsi di argento, sto scherzando, andiamo avanti, abbiamo un segnale di circa 19, ragazzi ho un buon presentimento, perché la fede la segnava 19, si intorno a 20, abbiamo due linee di profondità, esattamente, già vibrato il pointer, controlliamo, vedi qualcosa di giallo che luccica? Purtroppo no, una moneta, 2 centesimi, ragazzi, siamo diventati ricchi, altri 50 di questi, e siamo un euro, andiamo avanti, andiamo avanti, abbiamo un segnale di circa 59, 60, 3 livelli di profondità, 3 linee, scaviamo con la nostra fantastica mano ragazzi, vediamo se l'abbiamo tirato fuori, sembrerebbe di sì, una moneta, di sto passo diventiamo ricchi, no, duecento lire, sì, sì, cioè penso Repubblica Italiana così dovrebbe essere duecento lire, eh però, questa non va tanto via, guarda, non è messa benissimo, Repubblica Italiana da questo lato si legge abbastanza bene, sì, anche se è un po' ossidato, ma dietro è veramente ossidato, bene ragazzi, pure le lire abbiamo trovato, non le troviamo noi le lire nel nostro campo, le troviamo qui, veramente, bene ragazzi, andiamo, andiamo, abbiamo un buon segnale qui, di circa 66 con due livelli di profondità e riusciamo a localizzarlo, eccolo qui, scaviamo, facciamo subito una bella buca, almeno lo tiriamo fuori, speriamo, al primo tentativo ragazzi, penso che abbiamo tirato fuori, controlliamo intanto ci sono le forze dell'ordine che ci danno il benvenuto, sbaglio? no, dice esattamente la verità la verità, assolutamente ragazzi e niente, oh, qua vibrato, ecco qui oh, un'altra moneta 2 euro ma le prenderanno i bar, i supermercati, in queste condizioni? non saprei eh, manco è malvagia, sempre unico colore ormai diventato parecchi anni che stava lì sotto forse, vediamo di che anno è non si vede, no aspettate ragazzi non c'è scritto, rarissime queste 2 euro, senza l'anno no, 2002 2002 come potete vedere hanno quasi 20 anni diventate unico colore ottimo, ottimo andiamo avanti, siamo quasi arrivati all'obiettivo giornaliero andiamo andiamo un buon segnale qui di circa 60-68 esattamente lì ora abbastanza in superficie ragazzi controlliamo il pointer si è un po' impallato vorrebbe essere lì ecco la un'altra moneta un altro euro ragazzi forse questo ho messo un po' meglio un colore ormai sì ossidato vediamo se si legge l'anno 2001 bello, bello aspetta vediamo la pulita facciamo vedere bellissima ragazzi ottimo abbiamo già fatto un bel malloppo eh di questo passo diventeremo ricchi andiamo andiamo ragazzi abbiamo deciso di fare subito pasta sono ormai le 9 stanno iniziando ad arrivare le prime persone eccoci qua ragazzi questi sono i migliori ritrovamenti che abbiamo fatto oggi facciamoli vedere per bene 2 euro diciamo che 4 euro e 50 un kebab ce lo possiamo prendere giusto? esattamente perfetto ragazzi facciamo un bel saluto anche per oggi da Big Tire è tutto ci vediamo al prossimo video mi raccomando mettete un bel like iscrivetevi al canale vediamo al prossimo video amici ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.